Ora si ferma qui un attimo. Amiche e amici, compagni e compagni, nel chiaro dilemma delle urne sì o no all'austerità, nella grande portata delle elezioni e nella domanda con quale Europa, della democrazia o della signora Merkel, bisogna rispondere, l'unica risposta di cui ha paura la Merkel, l'unica risposta di cui ha paura l'establishment ultraliberale è la risposta della sinistra europea, della vera sinistra, non quella di Renzi che voleva ricontrattare il fiscal compact e non l'ha fatto, non quella di Renzi che è pronto dopo le elezioni a ricadere nell'abbraccio di Berlusconi e della Merkel. Perché questa è l'abberto, l'abberto di più, l'abberto di più, l'abberto di più, non è solo rispastica, è anche risposta, è anche realistica, ha scudeva laszioni in Europa e ha spazato un'abberto di loro perché la nostra risposta non è solamente radicale è organizzata, realistica ed alternativa con una politica determinata che crea alleanze e riconosce l'Europa come il terreno di lotta determinante appunto per la lotta di classe e politica questa è la risposta pericolosa per il sistema non quella della protesta arida come quella di Beppe Grillo che ha adottato la politica inoffensiva delle proteste attraverso i mail senza proporre qualcosa di concreto di reale per l'Europa politici di Bologna ma è un'azienda che dovremmo che dovremmo bisogna molto perché in Europa una fanno una fanno una fanno che tutti crediamo è che è stato è stato ora, con le politiche antilagiche politiche di politica, è il fantasma del fascismo, del neonazismo, del racismo e delle xenofobie. Dobbiamo stare molto attenti perché in questa Europa si sta ripalezzando un fantasma che pensavamo non sarebbe mai più tornato, purtroppo, grazie alle politiche di austerità. Si tratta del fantasma del fascismo, del neonazismo, del racismo e delle politiche xenofobie. Grazie. 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 Ha un'Italia antifascista che è stata data dalla vostra città. Grazie. Grazie.